I run away I run away I run away I run away Ci siamo? Allora, risponde a Tutti Kevin Bacon No, Kevin Barton Kevin Barton Scusate ho fame Kevin Bacon Kevin, cosa ci fai su Fasmophone? Allora Torcia potente Io prendo il libro da disegnare Io ho preso la torcia UV e la fotocamera Bene A terra c'è un MF Microfono direzionale A terra c'è un MF Che serve il microfono direzionale? C'è la sfida giornaliera Non mi interessa Dice perchè ti trattiamo male? Andai Dov'è il contattore? No Si accende? Oh, dame la sigaretta Allora, andiamo in garage Due cazzo stanno in garage Chi c'è qua? Salve Ci giriamo l'abbiamo già fatto tutto perchè Robo avrà tipo Permesso Il contattore è in garage Ehm... Accendete tutto Midoriya? No Ma non ce l'ho il corone Non c'è, al massimo ti metto blu Chi ha l'MF? Eh, lo scuro di questo non ce l'ho Ce l'hai tu Ok, vediamo un po' quand'è che sono Che richiesta strana Allora Vediamo No, qua non posso andare C'è anche il piano di sopra Oh è qua, ha aperto l'acqua nel bagno Sono io Ah, sei tu Sta sporciata Oh Che cazzo Che cazzo Allora, tu fai Ragazzi, andiamo di sopra Mi ha trovato l'osso Andiamo di sopra Potrebbe essere qua Chi ha aperto le stanze? Io Ok, ho 5 gradi Però ho meno paura del fantasma 5 gradi 7 gradi 5 cazzo Potrebbe essere qua, eh Ha aperto la doccia Ma non va aperta lui la doccia È sempre Benissimo Ti spado Io sto cercando l'osso Eh, ma lo sai che lo puoi raccogliere solo una volta per avere più soldi Quindi fa lo raccogliere agli altri stavolta Ok, ok, ok Una a testa Arrivo Se no ti da solo 10 dollari Ha aperto la doccia? Sì Sì, al pieno di sopra qua l'ha aperta No, l'ha aperta la doccia No, l'ha aperta la doccia Come si chiama? No, l'ha aperta io, eh Ce l'avevamo solietta al piano di sopra L'ha aperta il fantasma Qui è l'ha aperta Qui l'ha aperta No, in questa camera Quindi sta qua Stai facendo Midori Stai facendo Midori Sì, sta qua, sta qua Allora metto il diario Così lo colora Non in questo bagno No, non mi avete capito Non in questo bagno Nell'altro della camera a fianco Ah, aperto l'acqua No, no, in questo bagno In questo bagno qui, eh No Oh, fa un grado e mezzo qua Eh, ma c'è Sì, ma 0,7 0,7 Stai facendo Meno 1 e 3 Aspetta Congelamento? Eh, eh, meno 1 e 3 mi è capitato Meno 1 e 8 Ma per un... Meno 3 Sì, temperatura di congelamento Sì, congelamento Congelamento, sì Allora Quindi a qua, ok Prove Temperature di congelamento Anche qui noi siamo esperti di fantasmi Che ti credi, Robo? Scusami, eh Coso, ma... Eh, no, perché ho trovato la doccia dell'altro bagno accesa Capirei, diciamo Molto di peggio, diciamo Questo non è niente di che Mi sono neanche reso conto Ok Eh, eh Coso Poi Aspettate qualsiasi spade di luce, eh Allora Dove? Dove è venuto? Non so se era il fascio di Midorion No, non ci sono Ma questo osso dov'è? Io non lo trovo Allora, sensore di movimento Poi l'MF l'avete preso? Sì, è qua acceso Sì, è qua acceso Ok Prendete anche il sale? È un crocifisso? Oh, l'ha calpestata, eh Aspetta, faccio la foto Ah, sì Lì, impronta Fai la foto Fatta, fatta No, un'altra foto Con la verde, sì No, è sparita, cacchio Non si vede È sparita Non rimangono spesso, mi ha detto il mio amico Ok E ci serve il coso? Il dots La smetti di scaricare l'acqua? Ci serve il dots, ragazzi Lo vado a prendere io Beh, ce l'ho io Ah, ok E invece la radiolina? Guarda, se riesci a mettere il glow stick qua Perché ha appena calpestato anche questo Di sale C'è l'impronta? Mmm, no Non si capisce molto Non si capisce molto Vabbè, nel dubbio faccio la foto No Ok Prendete la radio e parlateci Dove sei? Sì Risponda a tutti o persone da sole? Nel dubbio lo chiudo Sì, ma... Uddi Uddi, l'ho sentito! Ero io, ero io Ma dai Stavo chiamando Kevin Lo devo attaccare all'uno Dove sei? Davvero, ho il sensore in movimento No, ho già fatto No, l'ha rivelato La presenza È rivelata, ok Non devi attaccare l'amore Questo l'abbiamo fatto Che altro ci manca? Un crocifisso? L'avete piazzato? Ce l'ho io Ma l'hai piazzato? Ah no Terra? Aspetta, vado Poi... Quanti anni hai? Ed eleva un suono paranormale al microfono direzionale L'avete fatto al microfono direzionale? Lo sto facendo adesso No Quanti anni hai? Oh ma... Un oggetto maledetto! Tanto belli gli oggetti maledetti Dove sei? L'avete trovato? 9 Lo cerco io Kevin Bartolo Non capisco se mi risponde Che dice con l'accento gioco Come ti chiami? Dai! Faffanculo! Quanti anni hai? Nooo... 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 Chi sei? Nooo... 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 Davvero... Tu vuoi... Vuoi farci secchi? Vuoi farci secchi stanotte? Quanti anni hai? Ti faccio proprio secchi, cazzo L'osso non è qua Tu... Non lo raccoglio, eh? Ti devo fare la foto Quanti anni hai? Neanche qua... Secondo me... Ho rivelato... Ho rivelato anche il suono Manca soltanto la sanità al cinquanta... Al ventesimo... Eh... Al cinque... Eh, intanto se trovate l'osso... Non mi risponde, raga Ah... Ero... Ero su Instagram... Ah... Addio... Pensa io che sto giocando in un gioco horror Eh... Sto cercando l'osso... Comidoia... Mmm... Ma il cazzo sta? Forse è in garage... Sto cercando... Ma... Eccolo, eccolo! Madonna! Qui sotto, sotto, sotto Dove sei? Sotto? Siamo interrato, sì Ok... Mi sento sento... Ci sono pure dei segni strani... Dov'è? Qua... Ok... Lo facciamo Midoria... Vai vai... Ok... Lo facciamo Midoria... Vai vai... Aspetta... Aspetta... Siete dei folli... Aspetta... Ciii... Eh Dio... Dai cazzo... Ahahahah... I miei timpani... Aspetta... Siete dei folli... Aspetta... 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 I miei timpani... Bo... Non mi risponde... Aia... Ok... Ce l'è l'accendino? Ehm... No... Aspetta... Eh... Ci serve l'accendino... Dai... Dai... Hai messo il sale, mi do? Sì... Sfere di luce ce ne sono viste... Sopra... Ok... Non è vero io... Non ti credo... Se ne sono viste... Sfere di luce... Così poi... Momento infarto... Non si vedono... Non so... Niente spirit box, Bo... Dai... Ok... vai vai... Accendi... Accendi... Che le forze delle tenebre vengono a noi... Dai... Ok... Vai vai... Accendi... 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 Che le forze delle tenebre vengono a noi... Vai vai... Togli il dot... Ah... Non va... Non va... Ma... Aspetta... No... Stai... Stai dando fuoco al cartone... Ma... Non ho capito... Ah... Non prende fuoco... Sì... Lo prende... Ci devi andare proprio sopra... Ma... F... Sfere di luce... Sfere di luce... Sfere di luce... Ha toccato la porta... Sì... Mi sono anche cagato... Ok... 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 Oh no... Fuck this shit... Ma... Oh madonna... Ci stai inseguendo... No... Ho ucciso... Come? Come ti ho ucciso... Mamma... Vedi... 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 Ho ucciso... Rosso... Ho ucciso... Se fosse solo un video... Capito... Tipo... Stavo lì a guardare... Vabbè... Sarà il video del fantasma... E invece... Sfere di luce... Sfere di luce... Ok... Vai... Ok... Guarda col glow stick... Vai... Oh no... Oh no... Fuck this shit... Ma... Oh madonna... Ci stai inseguendo... No... Ma... 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 Vedi... 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 Pensavo fosse solo un video... Capito... Tipo... Stavo lì a guardare... Vabbè... Sarà il video del fantasma... E invece... Oh no... L'abbiamo evocato... Ha fatto l'acqua sporca... Ha preturbinato con l'acqua sporca... Fate la foto... Madonna... Attività fino a dieciandale... Eh... Sì... Perché si è apparisato... Ha camminato sopra il... Eeeh... Mr. Glowstick? No... Niente... Niente impronte... Vabbè... Vabbè ragazzi... Quindi che prove abbiamo... Sfere di luce... Sfere di luce... Sfere di luce... E basta? L'MF? Libro spiritico? Niente... Non c'ho scritto... Ha risposto? No... Alla spirit box? No... Oddio... Vittoria sei a zè... Stefano... Cazzo... Ho visto... Alla spirit box... Dio... Vittoria sei a zè... Stefano... Cazzo... Ho visto... Ho visto... La compagna morire... Cazzo... Cazzo... Vi sta inseguendo... A me... Stava seguendo... Stava sopra... Ho visto la compagna morire... Uh... Uh... Vi sta inseguendo... Vi sta inseguendo... A me... Stava sopra... Stava sopra... Occhio... Era tipo... Trasparente... Sì... Ma... È tipo... Veloce... Infatti... Puoi essere... Diverto... 850... Sempre paura... Ti verrà... Sì... Ma... Era veloce... Mi fanno... I bang... Non lo so... Sono scappato... Allora... Come ti chiami? Mi hai distrutto le orecchie... Attenti... Attenti... Pasqua... Io faccio un selfie... Quanti anni hai? La puoi pure mettere per terra... Oh... Tio... Dai... Cazzo... Stefano... Sì... Però... Ah... Perché tu la puoi pure mettere per terra... Oh... Tio... Dai... Cazzo... Stefano... Sì... Però... Così... Ti fai allertare anche pure a noi... Come ti chiami? Ho capito... Ha bruciato... La croce... Come le timpani... Sta bruci... Paura pura a mangiare... Come ti chiami? Ha bruciato la croce raga... E ha fatto la foto... Quanti anni hai? Sono punti... Quanti anni hai? Non risponde... Dovete raggiungere la sanità mentale sotto al 25 eh... Ah... Ci manca poco... Stefano... È completata la missione... Ma ci sono armadietti... Sì... Ci sono armadietti dove posso nascondermi... Per sicurezza... Ah... Eccolo... Quanto è la sanità mentale? Oh... Cazzo... Ciao... 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 Non l'ho fatto in tempo a scappolare... L'ho raggiunto... Eh... Aspetta... Sta a livello 3... Vabbè... Abbiamo capito chi è, no? No... Posso uscire adesso? Sì... Puoi uscire... Ci manca... Ciao Rose... Ma... Chi prova manca... Eh... Ne manca una... Eh sì... Sta suonando qualcosa... Oh cazzarola... Eccolo... Eccolo... Scappate scappate... Sta scendendo... No... No... È in una stanza... No... Sta scendendo... Sta scendendo... Sta scendendo... Sta scendendo... Uscite... Andate via... Rascondetevi... Sta andando verso... La cucina... No... Verso il piano... Il pianoforte... È nell'andito... Sta risalendo... Io mi sono nascosto... Io sono nascosto... Sta risalendo... Sta andando nelle altre stanze... Sta andando nelle altre stanze... Eh... Non mi trova... Perché sono nascosto. Occhio. Sono dentro una pianta. Occhio. Come dentro una pianta? Sono dentro una pianta. Ma come dentro una pianta? Sono dentro una pianta. E funziona. Sta scendendo. Sta scendendo. È andato via. Ha smesso. Ma io sono fuori. Guardami. Non ti vedo. Dove sei? Qui. All'ingresso. Eccoti. Dove cazzo eri? Non ci credo qua. Ciao Zivu. Mi sei nascosto. Ciao Zivu. Mi sono inchinato e mi ero messo dietro dalla pianta. Così. Che figo. Ho acceso la torcia nelle scale. Infatti lui è andato subito nelle scale. Mido. Aspettate. Hai zero di sanità. Aspettate. Mi sa. Forse è un dottore lozzo. Usa la medicina. Usa la medicina. Ma stai vedendo? Dove sei? Qui. Utilissimo. Sì capito. Io vedo tutto bianco ragazzi. Rosso viene a vedere il mio cadavere. È qua dentro. Oddio. Sì ma ti ho visto morire. Oddio guarda il collo. Sei diventato un tacchino. Grazie al follow Flamin. Guarda un tacchino. Mi ha girato il collo. Oddio. No eccolo. Ciao. Scaffate. Spegnite la torcia e nascondetevi. Oddio. Ah io sono morto. È nella stanza del bambino. Sta scendendo. Sta scendendo. No sta tornando indietro. Oddio Midori. Perché ci è mosso. È aperto la porta. Stai fermo. È morto. Midori è morto. È morto nel bagno. Posso scendere? Guarda che forza. Si scappa. Scappa. Sì. Ma. Scappa Simo scappa. Scappa cazzo. Simo scappa. Sei l'unico rimasto. No vabbè. Ultima sopravvissuta. Quindi quale fantasma mettiamo? Raga non ci sono prove. Quindi non è Londria. Passi UB del fantasma. Dai andiamo. Sparcato la bambina. Quindi è? Io ho messo Uray. Secondo me Uray. Uray scegliete quello che volete. Io mi sono Revenant. Faccio angio. Perché quando si è passato. Con l'incenso lui si è placato. Io ho messo anche Uray dai. Vediamo. Perché l'oro dovrebbe camminare in maniera molto più veloce ma. Non mi sembra che ti ottava. Vabbè vado? Vai. Vai vai. Anche perché mi sono andato rotto il cazzo. Ma non faceva nulla. Da un'altra parte ucciderci. Sì. 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 E vai. Sì. Sei cato. Ma hai dato retta Simo? Dai. Batti 5. Mamma mia. Mamma mia. Come andiamo? La prova dell'incenso. La prova dell'incenso. La prova dell'incenso.